Storia di Iqbal, capitolo 5 Per più di un mese non accadde nulla di nuovo. Il caldo era sempre più opprimente e il lavoro sempre più duro. Hussein Khan si aggirava inquieto per il laboratorio torcendosi le mani, invocando in vano il nome di Allah e del profeta, distribuendo minacce e promesse, carezze untuose e scappaccioni, indistintamente a tutti. I più esperti di noi sapevano bene a cos'era dovuto questo atteggiamento. Stavano per arrivare dei clienti, probabilmente stranieri, e il nostro padrone temeva che i tappeti a cui stavamo lavorando non fossero sufficientemente belli e perfetti e di gradimento a quegli illustri signori. Ci chiamava piccoli miei, piccioncini o addirittura figli miei adorati. Ci ricordava di averci sottratto a una vita di stenti e di fame e che a mantenerci in finte i conti lui ci rimetteva. Ci supplicava di non rovinarlo, anche perché la sua rovina sarebbe stata la nostra rovina, e poi ci minacciava delle più orrende punizioni. E in effetti, lo sapevamo bene, nel periodo che precedeva l'arrivo dei clienti era facilissimo finire nella tomba, anche per una mancanza da niente. Arrivavamo alla sera stremati e con le dita sanguinanti per i tagli che i fili ci facevano sui polpastrelli. Karim era quello che più di tutti temeva l'ira di Hussain. Se il padrone lo avesse cacciato, cosa avrebbe potuto fare lui che non aveva più una casa e una famiglia alla quale tornare? Sarebbe finito in qualche angolo del souk, affidato alla pietà dei credenti? Per cui, durante il giorno, dovevamo subire anche le sue sfuriate e le sue minacce di fare la spia al padrone, se appena ci permettevamo di alzare un attimo la testa. Ma poi, di notte, si lasciava impietosire dalle nostre lacrime e dalla vista delle nostre mani martoriate. Si alzava dalla sua branda, brontolando e dicendo che eravamo dei rammolliti buoni a nulla. Accendeva un lume schermato e ci dava un po' di unguento da spalmare sulle ferite, prendendolo da un grosso barattolo di latta che si era procurato chissà dove. Anche se molti di noi furono puniti per le sue spiate, devo dire, ripensandoci, che Karim non era cattivo. Sapevamo tutti la sua storia. Era stato ceduto a Hussain Khan che aveva poco più di sette anni e da allora la sua vita si era tutta svolta là dentro. Quella casa era diventata la sua casa e credo che addirittura, in un certo qual modo, si fosse anche affezionato a Hussain nonostante avesse lavorato come noi, pianto come noi, sperimentato la tomba come noi. Ma Karim, come tutti noi, non era nato lupo e non aveva scelta. Adesso era troppo grande e inutile per la produzione dei tappeti. Temeva di essere semplicemente gettato via come si fa come un paio di scarpe vecchie e bucate. Noi lo odiavamo quando ci faceva punire, ma in un certo qual modo capivamo che il suo destino, un giorno, avrebbe potuto essere il nostro, anche se non ci capitava spesso allora di pensare al futuro. L'unico essere risparmiato da quella bufera di minacce e promesse era proprio Iqbal. A lui raramente Hussain rivolgeva un rimprovero, ma neppure si permetteva di fargli una delle sue untuose e false carezze. In genere, passava davanti al telaio di Iqbal, guardava a che punto era con il lavoro e non diceva niente. Anche Iqbal lo ignorava. Non si distraeva dal lavoro, non piangeva, non si lamentava, non approfittava di quando Hussain gli girava la schiena per fargli una pernacchia o qualche gestaccio. Si vede che la catena lo ha ammorbidito, commentava qualcuno dei ragazzi. No, no, diceva qualcun altro, è che vuole diventare il cocco del padrone. Io sapevo che queste cose non erano vere, ma Iqbal per primo non si preoccupava di queste insinuazioni e di rispondere per le rime a quelli che lo prendevano in giro. Avremmo dovuto essere uniti tra noi bambini, visto che dividevamo tutti la stessa sorte e la stessa vita. E invece spesso litigavamo e ci vedevamo in gruppi e i più grandi approfittavano dei più piccoli, come se questo avesse potuto cambiare il nostro destino e farci stare meglio. Lasciali perdere, si limitava a dire Iqbal. Un mezzogiorno durante la pausa per il pranzo, mentre cercavamo di riprendere fiato nel cortile bruciato dal sole, Karim cominciò a parlare, assumendo quell'aria furba e misteriosa di tutte le volte che stava per farci qualche confidenza che aveva saputo dal padrone. Dobbiamo trattarlo bene, il nostro nuovo amico, disse indicando Iqbal. lui è speciale, è prezioso. Ho sentito Usain che lo diceva a un altro fabbricante. Tutti si fecero subito molto attenti. E cosa avrebbe di tanto speciale? Karim aspettò che l'attenzione fosse interamente concentrata su di lui. Prima fece un gesto come a dire lo so io, ma è un segreto. Poi si guardò attorno per accertarsi che nessuno lo ascoltasse all'infuori di noi, scosse le spalle, sputò nella polvere, abbassò la voce a un sussurro che a mala pena si sentiva e bisbigliò. Il tappeto, quello a cui lui sta lavorando, non è un tappeto come tutti gli altri. No, è un bucara azzurro. Mai sentito? Tappeti così se ne producono solo due in un anno, forse tre. Usain l'ha detto, l'ho sentito io con le mie orecchie. Un tappeto così vale un sacco di soldi e mica lo può fare uno qualunque. Ci vuole un artista per un tappeto come quello. si interruppe, sputtò di nuovo nella polvere. Beh, il nostro amico qui è un artista, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quindici pai ad occhi si girarono a guardare Iqbal. È vero? Gli chiesero. Iqbal era diventato rosso come un peperoncino piccante di quelli che si mettono nell'arrosto di montone. Non lo so, borbottò. Sì che lo sa, intervenne di nuovo Karim, perché ne ha già fatto uno. L'ha detto Usain, l'ha detto. È vero? È vero? Chiesero in molti. Io ho avuto altri tre padroni prima di Usain Khan, rispose Iqbal. E sì, per uno di loro ho fatto un tappeto così. E come ci sei riuscito? Non lo so, ho copiato il disegno che mi aveva dato. Restammo tutti in silenzio per qualche minuto a rimuginare sul significato di quelle notizie. Ma se è così, disse poi lentamente un ragazzo che con la sua famiglia era scappato dall'India e che incespicava un po' sulle sue parole. Allora, perché i tuoi padroni precedenti ti hanno venduto? Non lo so, borbottò di nuovo Iqbal. Si vedeva che era imbarazzato da questa storia e non gli faceva piacere che Karim ne avesse parlato. E tu, Karim, tu che sai tutto. Lo sai perché i suoi padroni lo hanno venduto se è così bravo come dici? Karim assunse un'aria di superiorità. Io lo so, rispose, ma non ve lo posso dire. Il padrone si fida di me e non ama che racconti in giro le sue confidenze. Facemmo tutti buh perché Karim era un pallone gonfiato e lui si arrabbiò. Poi, quando fu tornata la calma, un bambino scuro scuro di pelle che veniva dal sud e che aveva visto il mare si alzò dal bordo del pozzo dove era rimasto seduto fino ad allora e avanzò in mezzo a noi. Ma allora, disse, allora il padrone ti cancellerà il debito. Se quel tappeto vale veramente tanto, cancellerà il tuo debito. Facemmo tutti segno di sì con la testa. Una simile fortuna non s'era mai vista. potete esserne sicuri, esclamò Karim. Dovreste vedere che paura ha Usain Khan che Iqbal non finisca in tempo il lavoro o che non lo faccia bene o che commetta qualche errore che poi il tappeto è da buttare. glielo cancellerà. Voi sapete che Usain è un padrone giusto e generoso. Su questo molti di noi avevano dei dubbi ma tutti guardavamo Iqbal con occhi diversi quasi tutti con invidia. Ce l'avrebbe fatta lui. Non mi cancellerà il debito disse Iqbal lentamente. neanche i precedenti padroni l'hanno fatto. Il debito non si cancella mai. Si alzò un coro di proteste e allora noi che speranze avevamo? Perché dovevamo lavorare dall'alba al tramonto e lui Iqbal chi credeva di essere in fin dei conti era l'ultimo arrivato e il più fortunato di tutti e non aveva il diritto di prenderci in giro così. Anche Salman e Ali che avevano partecipato al primo colloquio notturno con Iqbal pensavano che avesse mentito tanto lui era sicuro che sarebbe tornato libero. Sei un bugiardo gli gridò Ali e quasi piangeva. Salman fremeva dalla rabbia. Nei giorni successivi molti presero Iqbal a malvolere e dicevano che era un presuntuoso e che stava dalla parte di Hussein come Karim. Io cercavo di difenderlo ma ero solo una bambina. Avevo preso l'abitudine quasi tutte le notti prima di addormentarmi di scivolare fino al giaciglio di Iqbal che era vicino al mio e di chiacchierare un po' con lui. Non credevo a tutte quelle cattiverie sul suo conto e poi anche se il padrone gli avesse cancellato il debito beh ero contenta per lui. Ce ne stavamo al buio a mezzo metro di distanza ad ascoltare i rumori della città il traffico che non si fermava mai diventando solo un po' più sordo e ovattato un improvviso scoppio di grida il berciare di un uomo che non aveva rispettato il precetto di astenersi dall'alcol e altri rumori misteriosi e confusi di cui non riuscivamo a indovinare la causa. Eravamo nati in campagna e là i rumori che spezzavano il silenzio della notte avevano tutti un nome ed un'origine familiare e conosciuta un uccello predatore un bufalo che si era sciolto dalla cavezza un randaggio impazzito dietro alla scia di un odore o anche il frusciare di uno spirito inquieto di cui avremmo trovato traccia il mattino dopo sulla corteccia graffiata degli alberi. Ma neppure degli spiriti avevamo veramente paura perché facevano parte delle cose del mondo anche se di quello invisibile. La città invece non la conoscevamo l'avevamo intravista confusamente per pochi minuti attraverso i finestrini del furgone del padrone quando era venuto a strapparci alle nostre famiglie o in occasione di qualche altro trasferimento. Io mi ricordavo soprattutto della gente tanta gente quanta non ne avevo mai vista in vita mia che correva da una parte dall'altra e mi sembrava che nessuno in realtà sapesse bene dove andare. Iqbal invece era rimasto colpito da un autobus un enorme colorato luccicante autobus di quelli che abbiamo noi in Pakistan pieno di fanali cromature e trombe che mugiscono come un'intera mandria di bufali e che gli permettono di farsi largo nel caos delle strade. Era la prima volta che ne vedeva uno. Ecco diceva Iqbal vorrei salire su uno di quegli autobus e sedermi accanto al finestrino e fare il giro di tutta la città due volte e vedere dove va tutta quella gente che corre. No no replicavo io meglio andare al cinema voglio vedere una di quelle storie d'amore che ogni tanto ci racconta Karim pare che ci siano dei grandi cartelloni colorati con su la storia del film e le facce degli attori pare che alcuni siano molto famosi e che per la strada li riconoscano gli attori non vanno in giro per la strada tu che ne sai qualcuno si oppure parlavamo delle nostre famiglie di quello che ancora ricordavamo di loro o di quello che ormai ci eravamo dimenticati e forse non avremmo ricordato mai più io non avevo alcun ricordo di mio padre e solo qualche sbiadita immagine di mia madre Iqbal invece ricordava tutto anche la disposizione degli oggetti nella capanna dove aveva abitato o il modo che aveva suo padre ogni mattina prima dell'alba di scendere al torrente per le abluzioni e di avviarsi poi verso la stalla coi capelli ancora umidi poi mi confidò che ogni notte prima di addormentarsi ripassava nella mente i suoi ricordi uno per uno con ostinazione per timore di dimenticarsene cosa te ne fai gli chiesi mi aiutano rispose a fare che ad andarmene da qua ecco io di questa cosa di scappare non gliene avevo più parlato per non metterlo in imbarazzo sapevo che l'aveva detta così per darsi un po' di arie magari per fare colpo su dei bambini sconosciuti o anche solo perché far finta di credere in questa cosa gli serviva per stare meglio non c'è nulla di male pensavo e poi pensavo anche se fosse vero ma per scappare bisogna avere un posto dove andare e che cosa avrei fatto fuori di là in una città che non conoscevo e che mi faceva paura chi si sarebbe preso cura di me con tutti quei rumori di cui non sapevo il nome avrei fatto come Karim che preferiva rimanere con un Sain Khan tutta la vita senza fare la spia però forse era per questo che nonostante gli sforzi al mattino non riuscivo neppure a sfiorare il bordo della finestrella del bagno avevo paura di riuscirci e poi perché sarebbe dovuto scappare uno come lui che stava per essere liberato in ricompensa del suo lavoro sarebbe stato da sciocchi così non gli dissi nulla tre giorni dopo proprio quando stavano per arrivare i clienti stranieri approfittando della pausa per la pipì Iqbal fece quella cosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti